Difficile da dire, ci sono tanti, qualcuno deve ancora recuperare come Neymar, si riuscirà a fare il Mondiale, però ci sono veramente tanti. Penso che nel Mondiale alla fine ci sia sempre una sorpresa, quindi non penso che sia uno di quelli conosciuti, penso che sia stata la forma sorpresa. Come favorite invece al titolo finale? Brasile. Come sarebbe essere portiere a una squadra che è in attacco a Platini in difesa Laurent Blanc, centrocampo Bogossian? Sarebbe stato un sogno, purtroppo ero un po' più tardi, ma fortunato, giocavo anche io con i bravissimi giocatori. Saluto al mondo sportivo. La tua opinione su Patrick Cutrone? Il giovane è molto interessante dal punto di vista qualitativo, sia tecnico che su produmorale, perché ha dimostrato quest'anno, pur non giocando sempre, di farsi trovare sempre pronto, quindi questa è una qualità molto importante per essere una squadra come il Milan. Penso che possa solo migliorare cose che sono tutte le sue qualità. Il percorso è fantastico, poi sono tutti calciatori qua per l'associazione di Beppe e di Amaldini, comunque è un bel evento e noi siamo felici di essere qua con un tempo fantastico. Mi fa sempre piacere tornare in Italia. Erebbe fuori una bella squadra unendo tutti i calciatori che sono qua oggi? Come no, come no, ci sarebbe tutti, difensori, attaccanti, anche portieri. Comunque sì, sarebbe una bella squadra. Venti anni fa sì, sarebbe una bella squadra. Un saluto alla redazione di Mondo Sportivo. Un saluto alle ore. Gut. Grazie.